Questo video è per rispondere a tutti quelli che ci chiedono ma come faccio a trovare il mio indirizzo IP pubblico? Fate così Aprete un browser quello che volete Andate su Google e digitate il mio indirizzo IP Cliccate su uno o qualsiasi dei risultati che vi vengono fuori questo, 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 questo Tutti vi restituiranno una pagina che dice qual è il vostro IP pubblico Semplicissimo e funziona dappertutto Che abbiate Windows, Linux, Mac Non scordatevi di dover digitare comandi strani O aprire pronte i comandi Fate così e non vi sbaglierete Ciao a tutti Grazie per aver guardato il video